io sto riprendendo la Valentina Savoia nella sua nuova casa che ora mi dirà che buono stiamo provando a contrattare allora com'è questa casa vi piace? è molto alta è molto alta che bella scala a chiocciola si fa la contrarotte veloce dai mi hanno convinto ad andare via in tenta in caso fisso ci sono andati a prendere del acqua e qua e 130 e questo andiamo via a montare la tenda e tutto io ho paura fuori perché lì viene uno prende il niente nel secondo infatti la prima notte in tenda io con due occhi aperti così a palla sento uno che apre la cerdina e c'è qualcuno e c'è qualcuno e non è stato uno c'era sbagliato te ma è che è un peggio strano non c'era una luce sinistra dove apri il cuore? il giorno dopo inizia a mettere gli ucchetti come dire se vogliono entrare con foto allora lo sai cos'è la cosa bella di questa telecamera? che hanno obiettivo grandangolare quindi sto prendendo sia te che l'Elisa capito? lei è venuta avanti sperando che io non la prendessi ma l'ho presa capito? quindi ora voi mi firmerete alla liberatoria giusto? esatto esatto vale e ricchi siete inquadrati siete inquadrati bene dobbiamo dire qualcosa? si voglio sentire le tue non parole vale vale stasera sai che? no li fai la quattro della telecamera è che ci sono tanto perché tu devi sapere ma col tempo li conoscerai che ci sono più scemo si trovano d'accordo guarda sono proprio mancava amore mancava amore ma si mi fischiano le orecchie quando si avvicinano con i microfoni ma... certo che è tu l'HDD la smetti stronzi un altro brano nel nostro schifo di litua così ha detto lui ci detesta grazie grazie